ciao amici è incredibile allora spostiamo subito la telecamera che ho sbagliato il posto allora spostate la camera mega mega gioco nuovo mega live mega non so se funziona non so nulla è un gioco crossplay si ok amici ok amici ciao stream elements allora condividiamo un secondo la live perché partiamo giusti a fare le cose giuste ok ciao stream elements ciao amici come state grandissimi i zonzo vediamo se ho scritto giusto i zonzo ciao manu grandissimo si sente bene l'audio si sente bene l'audio manu ciao grande allora stasera manu sto benissimo e gioco nuovo ho visto oggi che è uscito questo gioco manu è uscito questo gioco ciao zan e boy grandi ciao ragazzi si si benissimo sia il gioco che la tua voce perfetto perfetto adesso partiamo subito di botta eh allora questo è un gioco che è uscito oggi ciao zan grandissimo manu allora i zonzo in italy adesso in live web vertex grandissimo come sta amico mio allora scusatemi ragazzi io ho fatto tutte le cose buonasera buonasera anche te per presentare gran turismo oggi pomeriggio ho detto con il mitico kevin e shar del giochiamo giochiamo insieme a formula 1 poi mi è uscito questa meraviglia di zonzo che lo potevo aspettare lo stavo aspettando da una vita l'ho comprato lo portiamo in live vediamo un attimo com'è condivido un secondo live come state ragazzi come stai come state amici tutto bene io non ho ciao amici amiche di twitch come state se non siete iscritti iscrivetevi immediatamente al canale al canale di marco drums games se siete iscritti grazie ma si dai bene bravo bravo sei andato a scuola come è dato tutto bene ok un secondo solo che sto condividendo la live su discord discordino allora ragazzi marco drums perfetto la condividiamo anche su telegram ciao amici e amiche partiamo immediatamente adesso in questo momento con una mega live di grande vertex una mega live di isonzo è uscito oggi amici e amiche è uscito oggi quindi mega mega live di zonzo uscito adesso ok ma ci sono andato posso dire che stavo meglio a casa ma anche dalla scuola stare con i compagni stare in lavoro solo non è male esatto bravo bravo grande grande ragazzi ciao vertex ciao grandissimi da che si spara si spara si spara ragazzi si spara aspettate solo un secondo che partiamo immediatamente immediatamente scrivo all'amico maurizio la prendo con questa filosofia bravo bravo ciao sharder amico mio allora ti chiedo scusa davanti davanti a tutti sharder grande amico mio però c'è isonzo oggi è incredibile si spara no 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 non dire e partiamo con questo gioco strafichissimo strafichissimo isonzo uscito oggi ragazzi e niente andiamo 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 allora pagina iniziale gioca gorizia ceggio sabottino carso profilo caserma regno italia impero austro-ongarico ciao sharder ciao amico mio ma è solo online yes baby sì allora gioca ora ti stai unendo così sabottino non so neanche cos'è a il monte sabottino 608 metri erano dei baluardi difensivi della rotta di gorizia comunque mi dissocio oh sharderino non dissociarti facciamo regno d'italia non puoi nooo eh vabbè austro-ongarico allora dove andiamo andiamo qua ok probabilmente non si può andare qua qui non si può ah ok warning che cosa devo fare rigenera quadrato allora vediamo la grafica difendi le nostre linee allora i cattivi dove stanno ciao amici amiche di twitch che cos'è che c'è qua punti di selezione difensiva adesso devo capire da dove arrivano allora graficamente ragazzi non sembra niente male eh allora difendi qui andiamo andiamo attenzione della squadra sono sbilanciato io avevo un gioco simile ma non ci capivo niente allora questi sono i creatori di tunnersberg e eh verdex beh una roba del genere si chiamava questo è nostro oh io sto sentendo qualcuno che spara qui vicino si praticamente ha la stessa dita quindi non diciamo è lo stesso gioco ma è lo stesso gioco in teoria ha fatto meglio perchè per ps5 si si effettivamente sono abbastanza cosi sti giochi pucca no non devo sparargli a lui battiamo malissimo eh devo capire chi sono i nemici io sento un bordello assurdo raga e vedo morti ahi no oh tutta sta strada questo qui li sono caduto sopra dai da ger boi mi ha ammazzato ger boi vabbè si 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 xbox a tutti però a pagamento no 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 non è nel game pass è a pagamento mi stavo dicendo usare voi magari lo metteranno nel game pass allora bisogna un attimo capire chi è chi non è allora allora ragazzi andiamo un attimo ah ah oh 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 sto sentendo qualcuno che spara oh oh allora allora il discorso di questi giochi qua è che non so mai dove è il nemico questo sta sparando ma dove a chi spara oh oh si spara di lì eccolo nooo l'avevo visto da playstation quello di prima mi ha ammazzato da xbox raga eh l'avevo visto stavolta l'avevo visto ciao gianmarco mamma mia gianmarco amico mio da quanto tempo che manchi come stai grandissimo come stai guarda che gioco che ti porta marco drums games channel è uscito oggi si chiama isonzo è molto carino ragazzi non so voi oh my god allora non ho ancora ucciso nessuno non ho ancora ucciso nessuno e la cosa non va bene la cosa non va bene definiamoci sembra che ho preso il sole ma no è solo la luce eh ah guarda la uova uova la stanno prendendo la stanno prendendo andiamo subito oh devo passare in mezzo al filo spira ok altro un galico qua grande gianmarco è vero è la giovane shader si si è vero è vero shader adesso vedrai che tornano tutti i nostri amici allora devo ammazzare qualcuno ragazzi perché non va bene probabilmente qualcuno avrà anche un fucile un po' più serio di questa cagetta qua che c'è in mano io eh credo eh allora graficamente è fatto molto bene eh vi devo dire la verità almeno io vedo veramente bene qua a monitor ma no niente di violenza e solo carezza eh si oh 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 cosa faccio ah sono andato troppo avanti è vero è vero è ragione ma solo baci e carezza eccolo eccolo che ciccata oh nooo ma dai nooo ma dai nooo ma dai ce la faccio ammazzare uno oh oh stanno prendendo B uno vorrei ammazzarne uno uno ti prego uno gioco è bello tosse eh eh ma non è che sono andato bravo a fare il cerchino e adesso non è in mano ma non è che sono andato tutto questo gran che come cerchino eh beh primo devo abituarmi perché il gameplay è diverso da tutti gli altri che ho fatto la cosa migliore secondo me oh 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 credo ahahah allora a parte che non so se ce l'ho il cerchino questi sono i cerchini eh credo si ma gli altri non muo- ah si no non muoiono allora vedi fuciliere come faccio a- non mi va niente di qua R1 cos'è sto qui adesso ti sta uccidendo solo un cerchino eh ho paura che sia anch'io così ho paura anch'io che sia così beh ecco la pipa ci sta di brutto con la pipa vai tra vai tra Manu vai tranquillo ok bisogna arrivare il punto verde ok ah ah un pettino verde ecco raga eccolo eccolo il pettino verde chi è questo che spara così a disposizione oh 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 sono loro che si stanno facendo ai 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 caramba non ne vengono neanche uno ragazzi ho visto prima di comprarlo un pezzettino di invidia di un di uno che ha fatto una strage e ho detto vabbè non neanche tanto bravino porca loca c'era bravo ma se ne ammazzo almeno uno 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 dico ma dai ma oh ma arrivo sempre in un momento in cui mi sono sempre dietro mi sembra di ricordare quando gioco a Call of Duty amici miei sempre dietro ce li ho aia dai aia ciao amici come state povero cavallino dai guarda che roba è incredibile comunque credo che stiamo morendo male eh credo che stiamo morendo male eh credo che stiamo proprio morendo male ragazzi credo che stiamo proprio morendo male ragazzi è proprio eh si abbiamo perso la posizione porca loca ma il problema sai quale è sharder è che si fa almeno io faccio una fatica visto dov'è il nemico non lo vedo proprio eccolo porca loca e mia ma sono troppo veloci sti ragazzini sti 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 giovani che giocano è incredibile oh fammi sparare con un mitraillatore dai ti prego uccidio e e dov'è che sono madonna raga non si capisce più niente ecco l'avevo visto qui l'avevo visto ma dai adesso siamo tutti qua e loro arrivano e ci seguono alla grande ma sapete che faccio una faccita incredibile eccolo ma questo no davvero no dai ma come fanno avere non puntano neanche sparano e mi ammazzano incredibile non posso credere ragazzi non ci posso credere sono troppo veloci sono davvero troppo veloci sono sicuramente cioè non ci posso credere muoiono tutti poi basta tutti morti l'ultima parte l'ultima parte non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono che poi spara pure stuposo si è stato fucilato per diserzione ah ho sbagliato io stavolta ah ok va bene ho sbagliato io ci sto secondo me sono tutti schiattati dai l'avevo visto quello lì però anche te marco drums games eh sono lì apposta sono lì così ti sparano subito 16 secondi per arrivare là madonna quanto tempo abbiamo ripreso un po' il pezzo però eh Billy eh fortunatamente diciamo che fino adesso non si può fare niente perché non ho il non ho mangiato nessuno e non ho i punti per poter sbloccare altre classi dai ma proprio qui ma avete visto ma questo qui è salito quando ho fatto un fucile ma non si può ma non si può così non si può cioè questa è sfortuna cioè spierum qui è sfigen neanche per sbaglio livello grafico è molto bello eh Richard neanche per sbaglio eh qui non c'è neanche la bomba fammi vedere magari c'è la bomba no non c'è però è una maschera a gas ah no che c'è la bomba aspetta allora aspetta che magari per fortuna qui è guerra però eh rispetto a un call of duty che rispetto a un call of duty che è frenetico qui sembra proprio di essere in guerra ma che cos'è sta roba perché devo mettere la maschera mamma mia non si vede niente allora giù quello là di qua ok dai dammi sta sta arma bravo sì ma sono dentro alla di festa ah c'è anche la benda però mi sto mi sto matando ancora bravissimo marco gran bravissimo due bende ah non c'è più di una sono illimitate le bende eh vabbè ma non mi fanno fare niente non capisco non capisco non capisco non capisco dove sono i nemici avversi 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 allora sceglio qua eh cacchio l'ho saltato ragazzi ma ce l'avevo un occhio dietro non ce la posso fare ne ho uno dietro andiamo uno dietro Sì, 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 sì. che bocce ecco la di fianco non riesco a capire da dove arrivano non riesco a capire da dove arrivano è bello però devo dire la verità però non ne ho ammazzato uno è incredibile che non ne ho ammazzato uno uno neanche ce la farò spero tengo fiducia grazie amico eccolo là neanche per sbaglio ma loro no loro si spavano da un chilometro loro si spavano dai non riesco a vederli loro ti vedono sempre è questo un problema è questo un problema allora faremo a caso è sicuro che il gioco è nuovo è uscito oggi è uscito oggi è uscito oggi allora è la stessa ditta che ha fatto che è uscito oggi è uscito oggi però questo è il dongio siamo in Italia tra gorizze è uscito qua e è uscito oggi infatti graficamente è bello allora a parte qualche scattucchio che vedo che fa però essendo il primo giorno si può anche stare a livello a livello a livello a livello è proprio a livello ma dai ma era lì fermo non riesco non riesco neanche a star ma di merda eh mitragliatrice pesante e distrutto vedo che sanno come sparare eh sì loro sì loro sì Sharder io no io realmente ma che poi è una questione di prenderci la mano col gameplay e più che altro capire nella vegetazione dove sono eccolo là guardali guardali allora adesso arrivano di qua ok perché se arrivano di lì quindi se stiamo così eccolo eccolo oh forse l'ho preso l'ho preso vabbè uno uno sono felice sono felice uno forse penso di averlo ammazzato eh e qui i colpi sono così raga se metti il colpo sei morto non c'è tanti cose da fare sono qui loro e anche proprio lento ma dai da dietro no però eh che cavolino di Bruxelles eh insomma dietro no non capire come fare no così eh è un casino non è facile io ho rinunciato gli dico vuoi perché è difficilissimo oh dove era ah stanno arrivando là forse era giù in basso no dai stanno mettendo la cosa sulla B ma dai guarda come sono lì attento 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 amico attento attento ehi atlai è un casino eh devo dire la verità e la B esplode raga la B non ce la facciamo allora oh 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 ah 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 incredibile incredibile sono lì aspettare sono lì aspettare incredibile ciao amici amiche come state isonzo day one edition è uccito oggi amici oh 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 chi l'ha ammazzato Marco Drums ho letto guarda guarda vedi Marco Drums lì o no ah questo è qui è che cazzo no guarda 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 no non guarda no cacchio pensavo che avevo ammazzato qualcuno invece io non ti rispondo cazzo cazzo no dai dai erano lì bastava che sparavo ma c'è gas ma dai ma dai ma dai una partita dura un botto ciao Manuel grande no ma vai tranquillo non devi chiedere scusa amico mio devi fare quello che che vuoi cioè che nel senso che devi fare tranquillo dura un casino Manuel la partita ancora è dietro quella là allora metti sta maschera oh no si 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 è vero no sto deficiente con la pistolina da dentro lì ma era lì con la pistolina con il gas dai ma non ci sto non ci sto dentro 299 praticamente si sono rifatte le vite hanno beccato il posto adesso 299 se no dai non mi fucilare non mi fucilare sono rientrato cioè praticamente sono infinite ne ho ammazzato uno si ma l'ho ammazzato io eh quello l'ho ammazzato io ma perché non mi ispiri dalla parte che sono morti non è che è sopra dove c'è la faccia potrebbe anche essere ma forse è anche la modalità eh ahia perché poi ogni tanto ce n'è qualcuno fermo questo è fermo questo è un gioco anche che bisogna un po' e dov'era e dov'era 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 vabbè dai pettiniamoci i cappelli pettiniamoci anche la barba io io raga non l'ho visto dov'era non l'ho visto proprio ma l'ho proprio visto va no allora poi credo che come dice Manu bisogna ai dai dai cazzarola dentro 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 bisogna imboscarsi qui è un gioco che bisogna imboscarsi mazzato credo vedete uno dei nostri è andato via ma cosa stanno facendo ammazzato si è un colpo si è morto un colpo e muoiono grazie sono felicissimo dai almeno posso chiudere la live e dire che ho ammazzato un paio di allora io ti dico oh 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 cos'è ma io ti dico la verità mi sto sentendo mi sono suicidato ma perché che ho messo la maschera non ho fatto niente non mi sono suicidato io ragazzi ve lo giuro mi sono suicidato incredibile vabbè il gioco dice che mi sono suicidato vabbè se lo dice lui io non mi sono suicidato stavo mettendo la maschera se questo mi metto mezz'ora mettere la maschera è un po' rincoglionito è un po' è un po' lento fare le cose devo dire la verità allora fa ci stanno già massacrando eccolo aii aii la benda è sotto come faccio a usarla la benda non me lo ricordo più come si fa a usare la benda con la r2 perché non usano i tappi tutti simili ciao amici ciao amici come state eh scusate ciao ciao volevo fare il gesto quello bello ciao ciao aia allora ok oh che lo becco da dietro oh che lo becco da dietro oh forza loca Marco ah 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 l'ho beccato oh l'ho beccato allora mi sembra un po' tutto ritardato ah vedi il tempo che ci metto a farlo no dai proprio l'ho ciccato questo qui è un po' ritardato è un po' come se sono tutti lenti non è veloce alla alla call of duty no che riesci a quindi è un po' un po' particolare come gameplay non so voi se riuscite a vederlo raga ma dai mi aveva visto mi aveva visto mi ha visto ma perché mi hai visto ero proprio qui ce n'era un botto ciao amici benvenuti ai sonzo questo era un nemico no non è un nemico pensavo che era un nemico sto girando in tondo ma dove sono dove l'ha mattato questo qua non è un nemico 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 ma perché se di rischio attacco nemico sarai come state benvenuti nella prima guerra mondiale ai zonto azzo era lì davanti a me potevo ammazzarlo io morto dai dai allora questa tipologia di 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 battaglia è infinita da da quant'è che siamo dietro 40 minuti ma è bizzga oh 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 che cosa succede 40 minuti raga eh con una con una partita uno è andato c'è chi no da sapevo lo sapevo il pecco c'ha la lucetta tipo gialla guarda che arriva giù tipo no dai dai ma è lì a me piace entrare a a a a a a a a a dietro ah l'ho visti alla fine eccoli là dove sono dai che se arrivano sto fermo sto fermo nell'angolino con la pistola con la pistola no è passato raga se stavo lì eccolo lì che è arrivato devo star fermo mi muovo troppo è proprio da imboscati dai comunque sparano sparano mica male qui ragazzi però sto vedendo che è molto è molto lunga il treno wow ah dobbiamo difendere il treno la casetta vediamo un attimo il panorama oh cominciano a sparare io volevo fare due tre quattro partite ragazzi ma qui se ne facciamo una mi sa che è tanto adesso credo che dobbiamo aspettare che arrivano vedi 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 ho fatto una modalità ho fatto una modalità strana dai dai che sono arrivati come un pippone ero lì dovevo sdraiarmi dovevo sdraiarmi raga e 11 secondi proprio su una montagna su una montagna mi sono a Gorizia c'era scritto non ci ho fatto caso stanno arrivando però eh ciao amici Tensberg orca orca guardalo là isonzo ragazzi da i creatori ahhh serio dai creatori di Verdum e Tensberg una roba del genere credo che si chiamava infatti si vede che era loro impronta però questo è nuovo è uscito oggi un day one edition se non siete iscritti iscrivetevi al canale grazie amici miei io non riesco neanche a vedere se vi iscrivete per ringraziarvi se siete già iscritti o se fate qualcosa perché non ho attaccato il pc aiaiai caramba sono già arrivati ah che bello vabbè dai qua c'è i cecchini extra extra qui ci sono i cecchini extra raga extra c'è ancora questo e questo qui puoi andare ancora più giù in città questa partita non finisce più cos'è sta roba esci si può uscire a metà si può uscire avrà una fine ah che bello con il gas eh avrà una fine no eccolo ma porca mi stavo togliendo la maschera mi stavo togliendo la maschera e allora aspetta un attimo un po' di pazienza con questo pistolino non si può arrivare tanto in fondo c'è qualcuno che spalla da lontano c'è un cecco ciao ma porca è un gioco nuovo si chiama Isonzo Isonzo la battaglia di Isonzo ehi ragazzi miei che problemi c'è Sharder eh amica amore mio oh davvero ciao Sharder oh 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 vi iniziamo già malissimo ma dai ma sono qui a un secondo perché c'è qualche bello ne infatti mi ha convinto la grafica il paesaggio della ragazza però è un gioco molto lento loro sono proprio primo guerra mondiale a fare le cose proprio lento lento c'erano anche un po' tutti un po' rincoglioniti amica ti ho salutato adesso Sharder è andata è andata Sharder Carla è oh saluti nel millesimo che ti saluta se no ciao è andata è andata sì ma il bello è che dove vai da qua è troppo lontano è troppo lontano io non vorrei uscire e perdere tutti i punti Sharder ti ho salutato è stato con la linterna no che legna 15 non so così quindi ciao Sharder mi ha abbandonato sì oggi devo dire che io stavo al gioco di macchine poi invece tutti 15 18 dovrebbe essere però magari mi ha morto mi ha morto io ero un asino in geografia in storia oltre in gioco la e anche la vado in gioco in gioco in gioco però con l'embaro in gioco il 24 portano ma mo io dai basta basta si amico mio e dopo non puoi più dire che non gioco con te mamma mia allora ti dico la verità questi youtuber hanno scassato veramente gli zebedei perché io ho già visto gente che ha fatto 10-20 video ha costruito già gli asfalti ha fatto troppa roba secondo me cioè dovrebbero far vedere un po' non tutto infatti io non guardo un video né niente perché voglio guardarmelo proprio con voi te la manca davvero poco oggi che giorno è amo? il numero 13 al 20 mancano 7 giorni amici io poi vi ricordo giovedì questo day one edition della beta di call of duty charder si è invitato giovedì a vedere che giochiamo la beta di call of duty non mi faccio la parola avete visto mamma mia mamma mia eh se ho detto così non ci stai di tu a mio amor cosa ci sta c'è un po' fresca tesoro ma no non è che ti chiedo amore mio questi materi che sono i quali che domani matria della scuola non è che ti chiedo non posso alzarmi 14 di sotto dai ma lo stavo ammazzando raga dai 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 258 morti devono fare prima di morire completamente ma caspita e a parte che sa mi sa che l'abbiamo persa questo qua è brutto anche brutto 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 questa è una chiesa mi sa eh si eh si eh si probabilmente saranno anche i posti reali credo eh ci sono stati fedeli madonna ragazzi adesso sono tutti loro attaccati a noi eh va quanti ce n'è 14 ne ho ammazzati dai dai sono felice allora dai 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 tranquilli euro poivola ragazzi 256 ok è non Porca Da dietro Sei serio? No non credo da dietro No dai E' impossibile da dietro raga Eh che sono praticamente tutti qua eh Sono arrivati tutti col ponte Bellissimo il ponte E il fiume sotto eh E comunque Carla non mi hai dato da bere Mi amor Anche Hurra Anche Alle bereit Luftafklärung angefordert Männer Allora vi devo dire una cosa Mentre il Call of Duty no Questo mi sembra Davvero di Di essere in guerra Mi da Davvero la sensazione ragazzi di Ah l'ho visto L'avevo visto da dentro la chiesa L'avevo visto Forse ne ho massato uno eh Fammi vedere No L'ho solo ferito allora No Stanno prendendo Ah praticamente la partita è finita dai E' anche un bene Sennò non finivamo più qua 40 minuti per fare una partita E' un po' come Butterfield eh Devo vedere se c'è una Una modalità veloce Perché questo Non credo che siano tutte così e basta Vediamo se c'è una modalità Veloce Tappare l'opera Sconfitta Tutto 40 minuti Sconfitta La prima partita che faccio Ma va Vangolo bello però va che roba dice chi ha fatto la mia cosa io sono dentro da qualche parte non credo proprio la peggior partita no neanche ok vediamo un punteggio 14 240 909 metri 1600 è la vita o vedi però progressione esperienza il combattimento tabella di punto 2 4 2 4 6 settimo è carla settimo grande sono settimo sono settimo mio amore ma non voglio uscire voglio uscire abbandona si basta basta ne facciamo una veloce no